Benvenuti da Puntost in Punto a questo nuovo video. Se siete su questo video è perché avete già visto in giro per abbo utenti girare con uno di questi quattro effetti e siete curiosi di come ottenerli. Ed è ciò che farò io in questo video, spiegarvi come averli. Questi quattro effetti vengono definiti effetti totem. Perché? Perché per poterli sbloccare c'è bisogno del furno totem, che, come ogni reale totem che si rispetti, è formato da più parti, in particolare tre. Ci sono infatti tre diversi furni totem, i piedi, il volto e il pianeta totem sopra di essi. Ciascuno di questi tre furni, facendo dei doppi click su di esso, cambia stato. In varie forme e colori esistono delle combinazioni particolari che vi permetteranno di sbloccare gli effetti. Quattro effetti, quindi quattro combinazioni. Importante è che vi ricordiate che i tre furni totem cambiano stato solo se sono in caselle diverse. Nel senso, se li mettete uno sopra l'altro e provate a cambiare stato, non funzionerà. Prima li dovete separare, poi li sistemate e poi li unite. Tutto chiaro? Bene, andiamo ad analizzare la prima combinazione. Questa serve a prendere l'effetto pioggia o acqua, chiamatelo come preferite. Come notate, i piedi diventano dei tentacoli. La luce che esce è blu. Il volto pure ha i tentacoli. Il pianeta totem è una luna. Ora che avete messo nel modo giusto i tre furni, metteteli uno sopra l'altro. Una volta posato il terzo furno, ossia il pianeta totem, fate un doppio clic su di esso e avrete l'effetto desiderato. Se è il primo effetto di quel tipo che prendete in giornata, si attiverà in automatico. A questo punto, per avere altri effetti dello stesso tipo, infatti potete accumularne quanti ne vorrete, non dovrete fare altro che prendere in inventario il pianeta totem, riposarlo al solito posto, fare un doppio clic su di esso e così via per quante volte vorrete. Ogni doppio clic avrete un effetto. Valutate che gli effetti durano un giorno ciascuno, quindi accumulatene abbastanza, soprattutto se il totem non è di vostra proprietà, ossia ve l'hanno prestato. Trovare qualcuno che si fidi di passarvi in scambio al totem non è così facile come credete, valutando che vale circa 600 credi. Ora vi mostro le quattro combinazioni per ottenere i quattro effetti. Interessante notare che lo scettro non sia altro che una combinazione dei tre precedenti. Ora però vi voglio dare un'informazione importante e che quasi nessuno conosce. Quando appunto, come vi dicevo, volete questi effetti, se non avete un totem e i soldi per comprarlo, l'unica maniera è farselo prestare in scambia. Purtroppo però, facendoselo posare in stanza appunto col gruppo, non sblocca gli effetti. Per questo l'unica maniera è di averlo di vostra proprietà. O almeno così tutti credono. Ma si sbagliano. In che senso mi dite? In realtà, per sbloccare l'effetto, non serve che voi abbiate tutti e tre i pezzi del totem in inventario. Bensì, basta che abbiate, di vostra proprietà, il pianeta totem, quello sul quale fare il doppio clic, insomma. Questo fa sì che, se qualcuno pose in una stanza la parte 1 e la parte 2, e voi avete un pianeta totem di vostra proprietà, potrete avere tutti gli effetti che volete, con solo una delle tre parti. Ora però vi starete chiedendo, e se non avessi soldi manco per quella? E io vi rispondo così, fatevela prestare. Prestare un furno da 200 crediti è sicuramente più facile per un vostro amico rispetto a prestarne tre per un valore di 600 crediti cumulativi. Inoltre, grazie al benefattore Maxi67, il ragazzo che mi ha prestato appunto il pianeta totem, che devo ovviamente ringraziare, abbiamo deciso di lasciarvi una stanza di vita ai traguardi totem. In che senso? In una stanza da poche caselle con gruppo, lui lascerà la parte 1 e la parte 2 del totem, in modo che chiunque vorrà, entrando nel gruppo, avrà in automatico la possibilità di posare il proprio pianeta totem e prendersi i quattro effetti. Il link alla stanza lo trovate in descrizione. So che non ho risolto tutti i problemi, ma ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Quiz del giorno, solite regole, per avere il premio dobbiamo raggiungere i 50 like. La domanda del giorno è questa. Quanti sono, in numero, gli effetti totem che potete ottenere? Rispondete qua sotto nei commenti con la risposta seguita dal vostro nickname. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate il loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.